Quest'uomo di mezza età si guadagna da vivere guidando veloce e urlando sciocchezze a casa. Strade lisce! È anche proprietario di una fattoria piuttosto grande ed esattamente un anno fa ha deciso che sarebbe stato perfettamente in grado di gestirla. Oh merda! Benvenuti alla fattoria Clarkson! Hai mai badato alle pecore? Gli sono entrato nell'ano! No eh? Dove la gente del luogo lo tratta con grande rispetto. È il riscaldamento globale e tu hai da una vita che corri con le auto. Sono incredibili stronzati. Se rimuovessimo tutta l'area... No Jeremy, no no no. È dritto come una rotatoria! Lo farò bene ora o è troppo tardi? È troppo tardi. E dove deve affrontare problemi concreti e reali? Una pioggia torrenziale. Un mese di pioggia in un giorno. E dove è finita la colza? Non ce l'ha fatta. Dieci atri. E non c'è solo... Tutto questo nell'anno in cui il mondo si è stravolto. Rimanete nel vostro veicolo per favore. Ho quasi 60 anni, mi sono fumato 750.000 sigarette. Se me lo prendo... Non ci sono speranze. È a terra. Date un'occhiata oltre la siepe. Andiamo a radunare qualche pecora. Oh merda. Alla fattoria Clarkson. Oh no! Sono delle ottime uova. Avete fatto il test per la salmonella? Cosa? Ce l'avete? Sono felice qui. Buongiorno. È una decisione. Posso scegliere di tornare a Londra e riprendere la mia vecchia vita? Sì, è meglio. La fattoria Clarkson. Come sta andando? Capisci che intendo? Sì, sì. Prossimamente su Prime Video.